Il calciatore olandese Joshua Zirkzee sta deludendo le attese, come tutto il club, nell'esperienza in Premier League. Joshua Zirkzee è stato l'oggetto del desiderio di diverse big italiane ed europee per tutta l'estate e alla fine ha deciso di raggiungere il connazionale Tenaga al Manchester United. Sono passati pochi mesi ma questa scelta fino ad ora non ha mantenuto le aspettative ed anzi ci sono i primi rumors. Il club inglese naviga nelle retrovie della classifica, è dodicesimo in classifica e fatica sia in attacco che in difesa, lo 0-3 casalingo contro il Tottenham potrebbe essere la pietra tombale sul futuro dell'allenatore ma potrebbe portare anche diversi giocatori, in particolare i big della squadra, a fare le proprie valutazioni. Da Bruno Fernandes fino ad altri giocatori che nel contesto United, probabilmente in primis per la guida tecnica, faticano a decollare. Una sola rete in questo inizio di stagione, diverse gare da titolare e un gioco che fatica, Zirkzee non funziona allo United e nelle ultime ore sarebbe nata una clamorosa ipotesi, Joshua Zirkzee di nuovo in Italia, una possibilità difficile ma non impossibile soprattutto perché c'è chi farebbe carte false pur di aggiudicarselo e portarlo nuovamente nel nostro campionato. Zirkzee nella big di Serie A, la richiesta è chiara.Secondo quanto riporta Calciomercato. Comla Juventus starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia Joshua Zirkzee, il calciatore è esploso nel nostro campionato e proprio con Tiago Motta e il tecnico gradirebbe volentieri lavorare nuovamente con lui. Ovviamente non è semplice, ma occhio a possibili ribaltoni già a gennaio e Zirkzee sarebbe un nome di spicco per l'attacco, un nome che potrebbe funzionare sia insieme che in alternativa ad Ushan Vlahovic. L'attaccante serbo ha un contratto dal valore di 12 milioni euro da lui e la società vuole valutare il da farsi, Giuntoli valuta un possibile adeguamento di contratto, al ribasso e il giocatore e il club faranno le opportune valutazioni. In caso di possibile addio di Vlahovic si può lavorare al sostituto e Zirkzee sarebbe uno dei primi nomi sul tacquino di Giuntoli. Per ora sono solo prime valutazioni ma la Juvecee nel caso sarebbe pronta a sondare il terreno. Zirkzee intanto spera di rialzarsi, sia lui che lo United con la panchina di Tenag sempre più in bilico. La società valuta se tenere o meno il giocatore.